Un ulteriore passo avanti, un gesto simbolico per consegnare alle generazioni future un esempio concreto di santità. Così viene lanciato l'appello per inserire il Beato Pino Puglisi tra i patroni di Palermo. Una campagna iniziata dal blog BeatoPadrePuglisi.it. Nel maggio 2013, Don Puglisi, ucciso dalla mafia il 15 settembre del 93, era stato proclamato beato per quello che la Chiesa ha riconosciuto come martirio per un omicidio commesso in odio alla fede. Sul blog l'appello è lanciato attraverso un articolo di Nicola Filippone, preside dell'Istituto Don Bosco di Palermo e autore di numerosi studi e ricerche sul Beato. L'inserimento tra i patroni di Palermo, scrive Filippone, suggellerebbe in maniera definitiva le straneità dei mafiosi dalla fede cristiana. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, spiega che già nel settembre scorso una richiesta del genere era stata avanzata. Papa Francesco, la segreteria di Stato del Vaticano, spiega ancora Orlando, aveva risposto che la lettera era stata presa in esame dal pontefice ed era stata trasmessa per competenza alla prefettura della Casa Pontificia. Dal Vaticano, inoltre, hanno spiegato che la richiesta di patronato va studiata e avanzata in accordo con l'autorità ecclesiastica locale. Per aderire alla campagna, ricorda il blog BeatoPadrePuglisi.it, curato dal giornalista Francesco Deliziosi, è possibile commentare sul sito o andare sulla pagina Facebook. Grazie a tutti.